Buongiorno a tutti, ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV, oggi è sabato 25 luglio 2015 e questa è come sempre la rassegna stampa del mattino alle 7.30 in diretta. Vediamo subito il santo di oggi perché oggi è un santo importante, oggi è San Giacomo Apostolo, il sole è sorto le 5.48 e tramonterà le 20.41. Il tempo è buono, anche oggi vedete la nostra fotografia, la webcam dell'osservatorio di FanoTV che è accessibile dove potete leggere anche tutti i dati relativi alle temperature, l'umidità, la velocità del vento eccetera eccetera, è accessibile dal nostro portale occhiolanotizia.it. Temperatura attuale 25 e 9, siamo ovviamente alle 7.30 ancora del mattino. Allora cielo sereno, poco nuvoloso nella mattinata, poi nel corso del pomeriggio invece è previsto un aumento della copertura di tipo cumuliforme, specie nel settore montano e collinare. Poi queste nuvole lasceranno la nostra regione verso sera. Abbiamo e avremo possibilità di locali piovaschi pomeridiani nel settore collinare montano, non si escludono brevi fenomeni anche lungo la fascia costiera ma qui poi dipenderà veramente tutto dal tempo e da cosa deciderà madre natura. Temperature stazionarie o il lieve aumento. Il mare sarà poco mosso per la giornata di domenica invece, parzialmente nuvoloso nella mattinata con addensamenti più consistenti nelle zone come sempre dell'entroterra, le zone interne. Avremo anche qualche precipitazione, qualche piovasco sparso già in tarda mattinata sul settore interno però limitatamente alla zona meridionale della regione. Nel pomeriggio previsti rovescio temporali sparsi sempre in montagna o in collina. Per la giornata di lunedì invece il tempo migliora, vedete cielo sereno poco nuvoloso con temperature lieve aumento, eventi deboli dei quadranti meridionali e dunque il mare sarà poco mosso. Probabili condizioni di tempo stabile sulle Marche per il resto della prossima settimana con temperature di nuovo in rialzo fino a mercoledì. Allora c'è una notizia, una notizia che purtroppo arriva dall'Australia, una notizia di cronaca, un tragico incidente che ha fatto perdere la vita ad una ragazza pesarese di 29 anni. Andiamo sul resto del Carlino, questa è la fotografia e il titolo. Tragedia in Australia, un fuoristrada nel Queensland, un bilancio di tre morti tra cui Gloria Rastelletti, una ragazza pesaresi di 29 anni, gravissima invece la sorella Giorgia che ne ha 26, lavoravano a Sydney. Questa è la fotografia che il resto del Carlino pubblica dell'auto su cui viaggiavano Gloria e Giorgia, l'auto accartocciata con le persone, appunto i soccorritori lì attorno. E di questo ovviamente se ne parla sui quotidiani, in particolare sul messaggero. Andiamo subito allora a vedere la pagina del messaggero. Muore in Australia in viaggio con la sorella Gloria Rastelletti, 29 anni, perde la vita in un tragico incidente nello stato nord-orientale del Queensland. La giovane era in auto con la minore Giorgia, rimasta seriamente ferita nello schianto che in totale, come abbiamo detto, ha fatto tre vittime. Due viaggiatrici sono Giorgia e Gloria, due sorelle molto conosciute in città e appassionate di viaggi, sono figlie di genitori separati. Stefano Rastelletti, scrive il messaggero e capo squadra dei Vigili del Fuoco di Pesero, e Milena Ballerini, invece sorella dell'ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Mirco. E poi qui ci sono tutti i dettagli. Erano partite un anno fa e in questo periodo si erano trasferite in una fattoria, un po' come fanno tutti quelli che decidono di andare in Australia, anche perché là non è come in Italia che arrivi e non si sa quello che andrà a fare, insomma, è tutto programmato, quindi è una tappa fondamentale, soprattutto di lavorare i primi mesi in qualche fattoria, insomma, devi dimostrare di essere autosufficienti. E questo era un percorso che avevano fatto anche queste due sorelle partite da Pesero. Poi c'è invece tutta la cronaca che riguarda il delitto di Sant'Angelo invado. Intanto i giornali oggi raccontano anche di questa uscita di Ambera o Ambra, che dir si voglia, Ambra per gli amici italiani. Ambra che difende, ieri è uscita la notizia, le dichiarazioni sono uscite di Ambra, appunto, la fidanzata, colei che avrebbe scatenato appunto la gelosia di Igli e che poi ha fatto quello che tutti sappiamo. Ebbene, Ambra difende il suo Igli e su Facebook si scatena l'inferno. Questo è il titolo sul resto del carino. Offese violente alla ragazza finanzata del killer Ismaele. Le parole di questa ragazza quali sono state? L'ha sgozzato ma non voleva farlo. Mi si dirà della pazza insensibile ma intanto io lo amo. È il mio uomo. L'ha ucciso per me. Quindi nella giornata di ieri sulle pagine dei social network di Facebook, è uscita questa pagina che praticamente è questa, dice Ambra Salì, insomma questo è il nome e cognome, ci fai semplicemente schifo e questo è il nome della pagina che qualcuno ha pensato di scrivere e di aprire su Facebook. Mi viene da piangere ma non esiste un codice di albanesi. Zanana Nuro vive a Durbino da 22 anni. Credo che sia solo pazzia. Questa è una grande tragedia. Credo che dipenda molto dall'educazione. Ai miei figli ho dato fiducia. Parla anche il sindaco di Urbania dove Igli e Mario vivevano fino a qualche giorno fa e il sindaco di Urbania dice che questi due ragazzi erano ben integrati, insomma non avevano dato alcun problema. La rabbia scuote tutta la comunità ma questo è il tempo di riflettere. Tra la gente di Sant'Angelo Invado evitiamo derive razziste. Nicola Muscinelli dice in realtà così piccola l'integrazione è reale e non di facciata ma dopo fatti come questo si scatena un'ostilità verso lo straniero. Dario Martinelli invece non si può criminalizzare una comunità intera ma è ancora troppo presto per sperare che tutti gli animi siano tranquilli anche perché alla luce di quello che poi ha dichiarato la ragazza adesso sarà ancora più difficile. Mario era lì, ha raccolto le cose e mi ha aiutato a legare Ismaele. Igli coinvolge l'amico che però si smarca. Ho solo visto il sangue. Il PM della procura di Urbino al momento non ha contestato loro la premeditazione. La versione di Mario, chiamiamolo il complice così ci capiamo tra Mario e Igli, insomma Mario è quello che sarebbe appunto il complice. Ho visto quando Igli, quindi materialmente colui che ha sgozzato Ismaele, ho visto quando Igli ha gettato nel fiume il cellulare di Ismaele. L'ho solo aiutato nella raccolta degli oggetti. Il mistero dell'SMS. Chi dei due ha mandato materialmente il famoso messaggino che depistava? Solo le impronte sul cellulare lo riveleranno e questo siamo tutti d'accordo. Sulla versione invece di Mario, l'ho solo aiutato nella raccolta degli oggetti. Beh, insomma, se volevi fare qualcosa, caro Mario lo potevi fare, potevi fermarlo o soprattutto, e soprattutto potevi andare immediatamente dai carabinieri e dire guardate che questo qua, che fino a dieci minuti fa era un mio amico, ha sgozzato una persona. Insomma, questo è quello che bisognava fare. In realtà così non è stato. Quindi, questo omicidio costruito con ancestrali regole d'onore, le donne dei femminismi, intervengono anche le donne dei femminismi fanesi. Poi, sul messaggero invece, eccoli qua, Igli e Mario, non c'è premeditazione, almeno per il momento non c'è premeditazione, ma ovviamente si lavora per capire se c'era o no questa premeditazione. È chiaro che c'è un coltello, non è che uno va in giro con un coltello, dove c'è il nastro, un nastro che è vero che può servire per tante cose, ma insomma bisognerà andare bene nei dettagli e capire se quel nastro non serviva per impacchettare qualcosa, ma per legare qualcuno. Adesso qui ci sarà del tempo comunque per. Allora, Igli e Mario, non c'è premeditazione, dicevo, convalidato il fermo per l'omicidio di Ismaele Lulli, il PM non ha aggiunto l'aggravante al capo di imputazione, cioè quella della premeditazione, che ovviamente aggraverebbe ancora di più la situazione dal punto di vista del processo, eccetera, eccetera. La pena restano da chiarire alcuni punti tra cui chi ha mandato il messaggino ai familiari del ragazzo per depistare le indagini. Ambera mi ha telefonato, dice, confessando il delitto, non riuscivo a crederci, perché Igli cosa ha fatto? Probabilmente anche perché voleva dire, guarda, hai visto che ti amo? Hai visto che stavo facendo sul serio? Hai visto che quando ti ho scritto l'ammazzo, questo l'aveva fatto qualche giorno prima, aveva mandato un sms alla fidanzata dicendo l'ammazzo, riferendosi a Ismaele, lui ha subito chiamato lei, come dire, hai visto? Ecco la prova, l'ho fatto. E lei invece dice, raccontato ieri dal terrazzo, dal secondo o terzo piano di una palazzina a Lunano, dove abita, con i genitori, ha detto, sì, mi ha telefonato confessando il delitto, però non riuscivo proprio a crederci. Sono stanca di dovermi nascondere, ho paura ad uscire. E questa appunto ragazza che ha 20 anni, il Corriere della Sera la racconta, la descrive come una ragazza minuta, che indossa gli occhiali, che mentre parlava con i giornalisti, con i giornalisti era vicino alla sorellina, con, credo, la mamma vicina, insomma ogni tanto diceva state zitti, parlo io, insomma è un po' agitata, come credo anche sia per una giovane di 20 anni, che al di là di tutto comunque sta vivendo una situazione certamente travolgente, in questo senso, ma comunque adesso sono dichiarazioni che forse era meglio se si nascondeva ancora qualche giorno, e aspettava che i giornalisti se ne andassero via, per evitare poi tutto questo putiferio. Comunque, questa è la cronaca sul messaggero, sul Corriere della Sera, il Corriere Adriatico, eccolo qua, la pagina di Pesaro, il PM cerca le prove della premeditazione, vedete l'aggravante per ora non è per ora contestata, prime discrepanze tra le versioni dei due albanesi arrestati. Sono versioni che in un primo momento collimano, combaciano più o meno con quelle dei carabinieri, poi è chiaro che nel momento in cui uno parla con il suo avvocato, come lo racconta l'avvocato, si cerca di aggiustare un po' le cose, si cerca di evitare e di alleggerire la zavorra, si cerca di aggiustare un po' le cose, insomma, ecco perché sì, io ero lì, ma l'ho visto, e quell'altro invece... insomma, sono quelle cose da avvocati. Il GIP ha convalidato il fermo, non è chiaro chi abbia inviato le sms, come abbiamo detto, per il depistaggio delle ricerche, che l'avvocato di Igli nega che sia stata un'esecuzione e che ci sia un codice d'onore, l'altro legale prende tempo. Che significa che l'avvocato di Igli nega che sia stata un'esecuzione, vabbè, questo magari lo spiegherà meglio, perché se non è un'esecuzione questa, messi in scena da clan mafioso, ma la società è responsabile, l'associazione Femminismi di Fano contro la cultura maschile violenta. Il PCL evidenzia i rischi di una deriva razzista. Andiamo a Senigallia, cambiamo argomento. Guardate questa fotografia, un camion che si è buttato di traverso e ha schiacciato un'auto nella quale, siamo sulla Arceviese, sulla quale viaggiava una donna, Fiorella Ferro, su questa Opel Astra, che è morta mentre andava al lavoro nel negozio Tende e Tendaggi Filipponi, di cui era titolare, che gestiva insieme al marito, Franco Filipponi. Un terribile incidente che appunto, a me è tutta una vittima, questa donna, di 66 anni, che ormai era a pochi metri dal suo negozio, era quasi arrivata e chi abita da quelle parti, chi la frequenta, quella strada, l'Arceviese, la definisce una strada maledetta perché è piena di trappole. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda questo incidente, il Corriere Adriatico racconta anche di una donna, di una persona, di una ragazza di 21 anni, di Ostra, che si trovava dietro la Opel ed è riuscita ad evitare il camion, quindi praticamente miracolata. Dopo lo schianto, l'astra è finita contro un albero e l'autocarro si è ribaltato sull'asfalto. Poi, storia di ordinaria follia, quotidiana follia, chiede il biglietto dell'autobus picchiato un autista di bucci. Sembra che ormai quasi tutti i giorni, cioè adesso non si può neanche più chiedere il biglietto, uno non so come fanno anche questi controllori che tutti i giorni devono fare il loro lavoro. Uno chiede il biglietto e si prende un cazzotto in faccia. E questa è la società in cui siamo costretti a vivere. Andiamo sulla pagina di Fano, soldi orientati a cultura part-time. Del vecchio critica i contributi, in più al jazz e a passaggi festival. Fano 5 Stelle segnala la mancanza di progettualità. Resta una ferita in città la cancellazione della Fano dei Cesari e del carnevale estivo promossi nelle fiere, le fiere che si fanno di solito per promuovere appunto le città, le regioni e quant'altro. in giro per l'Europa. Udc si torna all'era Carnaroli. Carnaroli è l'ex sindaco che ha governato per dieci anni prima dell'avvento dell'era Aguzzi. Ecco i conti. Del vecchio fa un po' di conti, fa un po' di calcoli e dice sostanzialmente che i soldi per fare le feste ci sono. In realtà questi 340 mila euro che lui ha calcolato, che Del vecchio ha calcolato e che sono stati distolti dal carnevale di Fano e dalla Fano dei Cesari, sono andati a finire da altre parti. E sul Corriere Adriatico potete individuare e leggere dove, secondo Del vecchio, sono andati a finire. Sono stati dirottati. Se ripromette una deroga per la musica dal vivo, il progetto per il Sant'Arcangelo, ostello per studenti e un museo del carnevale, del quale si sente parlare ormai da una vita, rivendicate opere in un anno per 16 milioni. Poi la festa del mare, festa del mare che sta per partire e che si apre come da tradizione con l'inaugurazione della mostra promossa dall'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Da domani pomeriggio alle 18 sarà possibile visitare la mostra La Grande Guerra, il contributo della Regia Marina che resterà aperta fino al 29 agosto dalle 18 alle 21. Poi c'è tutto l'elenco. Domenica 2 si parte per la cerimonia della benedizione della corona commemorativa presso la tempesta, la statua che si intitola alla tempesta, quindi sul molo del Lido, poi seguirà la messa ufficiata dal Vescovo, la premiazione dei rupi di mare, questo il 2 di luglio, e poi la deposizione di una corona dall'oro per i caduti con uscita in mare dei pescherecci. La festa si concluderà alle 23.30 con il consueto spettacolo pirotecnico. Ok, andiamo sulla pagina di Fano del Messaggero e chiudiamo. Musica di notte, pronta la soluzione per una tregua. Da agosto una delibera più tollerante verso le serate con la musica. Il Sindaco Seri cerca di ricucire lo strappo con i commercianti. Riqualificheremo il centro storico. Saranno ampliati i limiti massimi di rumori notturni, ma dalla mezzanotte e mezza i divieti saranno più severi. Si cita il Metauro sorvegliato speciale. Dunque sale il livello di attenzione intorno al fiume Metauro che rifornisce di acqua potabile Fano, Pesaro e buona parte della provincia. Per il momento la situazione è sotto controllo. Hanno spiegato i tecnici di Aset durante la commissione consigliare dell'altro ieri, ma non è da escludere che fra pochi giorni l'autorità d'ambito, lato, sia costretta ad emanare un'ordinanza per limitare il consumo delle risorse idriche. E con questo ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa che torna lunedì mattina come sempre alle 7.30 in diretta. Vi ricordo che fino a settembre occhio alla notizia, l'edizione Flash del sabato sarà sostituita dal magazine 7 per occhio, vale a dire tutte le notizie più importanti della settimana. Dopodiché a settembre con la nuova programmazione riprenderemo anche con l'edizione Flash. Mentre domenica santifichiamo la festa, grazie per averci seguito e buon fine settimana a tutti. a tutti. Grazie a tutti.